olè olè quando volete venite io parto in live come sempre senza pre live perché sono pigro mentre aspetta voglio un attimo vedere una cosa già che ci stiamo vabbè un po' c'erlo neanche se un attimo non è importante perdione questa roba qua è importante volevo vedere questo 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 va bene lo chiamo a a a a a a è eterno Ok Ok Io ripostivo Adesso c'ho un attack damage Perché scala giustamente Con la velocità di movimento Quindi Se io premo Di Di anche 1 Va ad aumentare Però aumenta Ok voglio vedere questo Quindi aumenta anche se sto fermo Ora se io non vado a 1 Allora Con il ghost non aumenta Perché devo effettivamente muovermi Aspettiamo che finisca l'effetto Con questo invece Ok però se invece faccio Ok Perfetto Ok Andiamo a cercare di Vingere Dovevo vedere un po' di cose Allora Volevo vedere cosa diceva League of Rags League of Rags Su di me Ok I Return to my training Il mio ecco Porrebbe salire Ancora un po' di Ok Andiamo invece Apriamo PGG Adesso Vai Ok Ia Karim È Bello in alto Come winrate Quindi Se abbiamo abbastanza P Però se lui va così Ho ho Udyr Ma non è Jungla Non so che Udyr mid Ho top Forse Udyr mid No 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 Forse Udyr Giungla Comunità ce l'avrei Su Kilo Counter Manca la piccola Di che Harry Se loro non ho questa Ok Perfetto Il top va pure a P Ci piace Mettiamo questo 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 Qua ci mettiamo il ghost E a meno che lì non va Quella build strana Loro sono full a D They are all A D If Ok Vediamo come va Non va Un Un Mamma mia che nome è Giochia del Falco Mi sa che i miei supporti stanno in un game insieme Stanno in un game, sono veri Grandissimo Lucas King Direi che ora comunque riserve della P in squadra Quindi mi sa che vado ecco Vediamo un po' come va il jungler Non va Ti prendiamo ecco e vediamo come va Perchè la P non ce l'abbiamo al momento Non ci prendiamo Grazie. Diciamo che non ho affatto veramente male, ma c'ho un po' di paura per Nasus perchè se va tanto avanti... Il problema è che Nasus contro Teemo non ha vita facile, cioè Teemo contro Nasus non ha vita facile. Se Nasus è intelligente basta che finisce il blind e poi gli si fionda addosso e Teemo non può fare nulla, soprattutto per i double 6. Beh ma esterni siamo messi in mezzo dai. Ok. 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 Grazie. Grazie. Mamma mia quanto va a scattini. Premo così. Meno scattini. Non ho mai capito perché mai sto cosa spawne a tempi diversi. Nothin' comes easy. That's why I do what I do. Come through. Ain't nothin' bring me down. Stardom chases me. Che il jungle ridilla shinjao. Ok. Non sai che farci in tempo a buttare giù questo? Sì. Oh no, Yasuo. Perché devi dirmi questa cosa qua incresciosa? Mi sembra strano che Shinjo sia partito dalla top verso la botta, quindi vuol dire che ci ha messo... Eccolo, infatti sta là. Quindi corro a farmi la... lo scazzolo. Mi sa che è morto quello. Dimion c'ha 20. Non facciamo andare in botta. Ecco. No, 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 no. Ok, direi che... oh Dio mio. Ok. Ho avuto timore che ci rientrasse Shinjo. Ok. No, no, no. Sono incastrato. Ok. Ho flusciato, Yasuo, vero? Sì, ho anche granitato, ma non so per quale motivo. Andiamo un po' se riesco a dare fastidio... A cosa? Direi proprio di no. Che palle! Se timo continuano a premere così cosa non è proprio tanto male, però. Anche se fossi in timo io mi blind e me lo tratterrei. Continuerei a poccarlo con autoattacchi. Tanto c'è il veleno. Ok, Shinjo non ha continuato perché è scemo. Ok. Top non finirà bene. Top mi sa che cosa ci lascia. No. Sì. Che sfiga, Timon. Che sfiga. Quello è un gran bel problema. È morto, Yasuo. Che sfiga. Che sfiga. Manca Timon, la cosa un po' mi preoccupa. Non timo, Vegar. Dio mio che palle, non dovrebbero morire però An ally has been slain No, 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 no No, 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 no I invent, create new horizons, choppin' the mines from iron and diamond Stop è troppo fiddato il game, direi che è andato No, 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 no No, no, no No, no, no I Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok allora Possiamo fidarci in trombe le cose Quello non è male Questo e questo Via C'è un gioco a basta che state attenti Sì però io solo l'avevi vista Ok No perdiamo sto fight No un attimo timo 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 No un attimo No un attimo No un attimo Grazie a tutti. Ok, scemo. Grazie a tutti. 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 Mamma... Se mi gioco bene sta cosa... Almeno noi dovremmo prendercelo. Non ce la prendiamo. No, no. No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. 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 Il vero problema è che l'intera squadra non fa danno. Madonna mia, Timus è veramente imbarazzante. Vediamo un po' quanto gridano. Direi che il loro io si lascia, intanto dovrò smettere il loro secondo. Ma c'è un livello in più di memo quello? Sì, mi sforciano anche no, sinceramente. Cioè, più farm di me... League of Legends con Marco Cercello, eh sì. Ciao, 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 ciao a tutti. Io, ragazzi, in realtà, adesso ve lo dico. Stavo pensando se trovo una buona offerta di prendermi Sekiro su Play. E giocarmelo su Play. Cercherò magari di platinarlo. Perché ho tantissimo voglia di rigiocarmi Sekiro. Ma su PC, comunque, non penso di che lo girerei ancora. Già mi dava problemi quando l'ho girato e il mio computer funzionava. Quindi niente, questo era un'idea. Però dobbiamo aspettare che sia in offerta. Oddio, non pensavo. Inting, inting. Che palle. Possiamo tranquillamente fare per fai. Magari dato fosse un'offerta. Ho fatto un piccolo inting qua. Peccato. Non è che tanto... Ripeto, con sto top e sto midi non penso che il game sia passato a vincere però... Noi! Dimmi, dimmi. Si spiega molto. Si spiega molto così. Ehi! Grazie team. Mortarci, comunque non ho voluti... Ero full vita. Probabile dato, molto probabile. Comunque, non ho voluti di vegar full vita. Mi ha quasi shattato. Ok. No, ma mi sa che... Ah! Non è la zona, non ce l'avevo visto. Sento, a questo punto il morale non mi conviene finirlo. Quella tonta mi dà vita in più. Sì. 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 Buon rush in giorno o dovrei fare tranquillamente? Tantissima Zachillio E lasciatemi farmare un cazzo di minion Mortacci vostro Ragazzi per piacere Concentratevi sul gioco Guardate quello che vi accade attorno C'è l'anima loro No non è l'anima loro L'ha presa? Ovviamente l'ha presa L'ista di sicuro qua Ma tanto io non c'ho lo smite È inutile Ok Ti ho cominciato a guardare Non guardate lo Non guardate lo Peccato l'allunzia un po' meritocratico Sarebbe molto più divertente No guardate lo No Non prende danno Perché Ah perché c'è questa Sì mi serva assolutamente Finire il rush of flame No guardate lo Certo Quanto cazzo c'è avrà Di Di MR lui 125 Bella alta Comunque 125 di MR E sta a due livelli sopra Che anche quello Si però mi sforza No vabbè 6, 7, 4, 6 in realtà Lui è la ulti Se combano No No Sti cazzi Non è più in più L'altro Dici che stanno al latte Potrebbero esserci in realtà Andiamo a vedere Beh dire proprio di sì Guarda Merda Ciao Ciao pingyu Pingo top e mid Mi hanno tirato Ritual game Ma top Mid sta un po' recuperando Ma top E il jungler Si è affidato Di conseguenza Punto sulla bot Sì dovrei Ma il fight Sta buildando Stramattato Il game è perso Da un Stratto perché Guarda Chi sono il top E i mid avversari Lo so Io l'ho fatto Poi non sto riuscendo a farmare Perché cioè Mi sforzano Mi sta prendendo Il farm ovunque Giungla Top Mid Ovunque Ovunque Non ho farm Ho lo stesso C'è il support Oh dio mio Pezzo di culo Bastardo Non riesco ad avere farm 171 di farm Il 32esimo minuto No bro No Che cazzo fai Niente C'è raga Mi sono appiattuto Perché scatta Va Bonk Ok niente Bonk Semplicemente Soprattutto Ho cominciato la partita Con 6.000 di ping Palla Soprattutto 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 Malfight Nel dubbio Non sa che fare Reporta Soprattutto Sopr---------------- Grazie. 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 E eccomi, scusate, 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 scusate. Ciao, rune. Immagino che... Oh, demoted, ci piace, ci piace, ci piace, ci piace. Giustamente devo essere demoted perché top e mid fidano. Grazie. Scusate, se la mia avventura è in ranked in LoL deve essere gente che mi tira 3T game e io che vengo demolito. Ehi. Hola. Run, non odiarmi. Cosa? No, dice che è molto arrabbiata. Ah, rune. Sì, sì, me l'ha scritta anche in privato. Sapi che la mia avventura sui roll su League of Legends sono... Dio che finalmente arrivo a Silver 3, salgo un po' di ranking in Silver 3 e poi la gente riuscite di tirarmi i rett game e mi riuscendo a Silver 4. Bello. Sì. Sì, sì, come prima che avevo Timo 1-8 e... E Jesuo 2-6. Ragazzi, io volevo farvi sapere che l'altra sera stavo per andare a dormire, era molto tardi e ho sentito al piano di sopra qualcuno che camminava e a quanto pare io sto sopra il cesso di qualcuno perché poi l'ho sentito sedersi e scorreggiare dentro la tazza. E l'hai scoperto adesso? Io ti giuro che non ho mai sentito una cosa simile. E' la prima volta che sento addirittura la catena a tirarsi al piano di sopra, non so come è possibile. Vabbè dai, sarà perché era notte, tutto col silenzio l'avrai sentito più forte. Allora io ho la vaga sensazione che debba andare a pista game. Vabbè perché a P c'è sta aria. Sì vabbè ma solamente uno, per me non è un problema, tanto io ho il mio main. Guarda guarda, la regola AP, cioè 4 AD 1 AP è valido, più di 2 AP diventa troll. Ma, tanto alla fine io sono sempre stato 3 AD 2 AP o 3 AP 2 AD, non mi cambia niente, l'importante è che ci sia il giusto equilibrio. 3 AP, cioè la Magic Resist è più facilmente counterabile. Ah ok, questo non lo sapevo. Cioè, per me ci sono più item da armor che da Magic Resist. Vi spiego meglio, non è che è più facilmente counterabile. Gli oggetti di Make it Done o Magic Resist hanno un alto valore, un alto coefficiente di guadagno. In senso, spendi meno, hai più risorse. Quindi condiene farsi quelli. Semplicemente questo non è. Allora, in secondo arrivo. Insomma ragazzi, nel The Ring io sto in questa zona, dove mi sento completamente under livellato, perché sono arrivato a un punto in cui qualsiasi cosa mi washotta e a qualsiasi cosa non faccio danno. Corki giungla! Ma qualcuno ha giocato qualche giungla in qualche partita di L.E.C. o roba simile? Certo, è vero che piano piano sale, però credo che lui possa farsi buff to buff. È l'unica idea di ripiazzare una ward al buff suo e vedere da quale... Oddio, ma perché va così tanto a scatti? Non può manco bere che si strozza. E ti ha menato così tanto. Corki, ma tanto non è un problema, ce l'ho fatto solamente per mettere la ward. Oddio, non ci morivo. Voglio solamente capire da quale... Ok, parte da qua, quindi lì farà... Immagino, se intelligente farà blue, ground, rosso. Oddio, sono un po' lontano. 6, 5, 4, 3... Vabbè, si arriva in tempo, voglio. Perché non... Ah, ok. In questo momento me lo faccio pure io e vado a rompere il culo a rossa. Ho finito i proiettili. I proiettili? Ah, 6G, non l'ho visto. Farò più. Ho fatto un 4... E basta, sta con te. Un 4 on Titan. Un 4 on Titan. Bravissimo che secondo lui Corki fa donna a D, no? Bravissimo, Nasus. Corki is AP. Diciamo che va bene. Corki is not AP, Corki 2 is Magic Lament. E' diverso. Sì, sì, sì. No, è diverso. Perché sennò uno dice... Non l'ho smitato. Io ho premuto lo smite. Ma perché succede sempre questa minchiata? Andiamo di qua, va? E qua c'è Garen. Perfetto. Facciamo così. Sono morto comunque. Non posso morire? Va, guarda, non... Parti... Vabbè. Avrò il mouse a scendere. Cosa scemo, capito? Vabbè? Speriamo lo smite e non parte. Lo smite smicchio. No, ma perché? Perché pure lo scattole si mette a per colarmi? Ma so, ok. Vabbè, hanno flashato un po' tutti. Lo sapete, è first blood. No. 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 Lo sapete, è stato un po' tutti. Io qua penso che lo scatto sia già bello che è stato fatto Che sfiga che c'ho avuto guarda Ah Garen ha pure ignitato tra l'altro Non lo segnalare Sì 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 Beh comunque col fatto che Garen si è fatto un giretto Nasus ha un bel po' di farmi più di lui Oh porca mignoto annullo da 40 d'attacchi Non è tutto il tipo fondamentale penso Ecco c'è una ward Non è tutto il tipo di gioco No one I can't beat Alla, tutti felici Ci andiamo Arrivo Non ci credo la E Basta No, quello l'è morto Bravo No, no, no No Non riesco a uscire dalla visione No, ma poi che un imbecille Mi spiace Ah, è mo' è colpa mia Focus Ti ha flashato di loro comunque Ho visto solamente la cosa La sirena Mi spiace Vogliamo provare a rarasciare il drago? Pizza, non fa Prova a fare un link gank Merda, vaffanculo, ho guardato Certo Pyke non fa veramente un cazzo del suo lavoro Manco c'è manca comprato il cosa Sì, beh, dopo che mi ha fatto morire... Ok, free drake Perché? Perché c'è Corky top Ma Corky comunque ha più farm di me Vabbè, è che ho perso un bot di farm Buon approchiamo, approchiamo, approchiamo Ok, possiamo prenderci anche qualche placca secondo me Ci muoio No Stavo a togliere quelle due volte Mi è arrivata pure la placca Cosa? Mi è arrivata pure la placca Interessante vedendo le volte Io sinceramente non capisco come possa Corky... Vai Il last hit di Ari Grandissimo il nostro team Piuttosto che lasciare la kill a Nasus poi Ma va bene, Ari stava indietro Eh, ho capito, ma molto mai che è una kill su Nasus Che è una kill su Nari che stava dietro No, lì rientra Poi il Nasus sta andando bene Basta Smitata Ok, ripusciamo Potrebbe arrivarci Corky, no Vabbè, Corky è in mid Eh, lo so, mi devo andare back Eh, di più Guarda questa che mi prova a uccidere Unda Pronto, Vare? Eh, mutati, mutati Mutati Aspetta, aspetta, mi muto subito Ok, io direi che posso beccare velocemente Che sberle, che tirano a Nasus Va bene, va bene Non per che cazzo mi hanno lasciato qualsiasi gioco come ti previsi? Eh, sarebbe bello, eh Usare Chiamata di lavoro In provvisa Non ti hanno Eh, preso da colpa la reperibilità? No, la reperibilità mia parte dalle occhi Ah, ok Eh, era una domanda che mi hanno fatto Perché ho fatto un giro oggi Mi hanno chiesto una cosa relativa a quel giro Occhio a qualche botto Sì, sì Certo, potevi giocartela meglio col Charma Ma rimannaggia a te Stato, ho fatto rimanere i Lignol Eh, però si diventano luttato Eh, vabbè, è classico, sì, ma so Ti ricordo che l'avremmo togliere la chat da LOL Ancora non so perché non l'abbiano fatto L'hanno fatto come test su alcuni paesi dove, diciamo, la tua società era ancora peggio No No Per i livelli sopra Certo, Arith sarebbe garbato No No, Arith, cosa fai? Ah, stop Cazzo Ho miscliccato la data Non l'avevo vista, questo lo sa una fa Sì, non ce l'ha qui Tocca fermare Vayne Ah, ma botta giusto perché c'era l'herald Ma quando lasciate solo i ping Il ping di me è tutto il chat non solo l'ho, esatto Pierangela bot se n'è andata Sarebbe carino se... ok Ok, io becco Qualcuno l'ha asfattato? Ok, Garen manco si è fatto la brumble Sì, Garen è full down E a Nasus la cosa fa tanto piacere anche perché c'è le tabby Mi faccio l'herald Eh, però ha rifatto un po' male là Eh, mi sono arrivati in tre Mi sono arrivati Corchi l'avevo pure scoppiato Tanto Nasus si è fatti i sonni Tra le stelle Mi muovono Mi prendono qua Vabbè, almeno Nasus se sta a fidare va a fanculo Io, se sta a fidare Vabbè, c'ha una kill e due assist E un bel po' di minion, non è male L'unica cosa è che già mi immagino il jungle difference Quando boh, vabbè No, vabbè, no, Pyke cosa sto vedendo Nasus è morto Non, vabbè, non, ma Sì, che sie sola Non vabbè Oh, sta cazzo, dei Valkyrie, delle merda, da anni che fa Tanto quando finisce poi tra l'auto? Sì, durata 3 anni! Oh no! Deve durare 3 secondi, a me mi è sembrata che era in alto di punto di più, ma non so No, anzi, fermo, Andu 20 secondi al Drake Che poi ogni volta sto lì per lì per shottare i corchi e si salva E inoltre non ci faccio più Ecco, bravo! Bravi tutti E gli lasciamo il Drake Ok, non c'ho neanche la ulti per andarlo... Per provare a stilarlo Questo era meglio lasciato Ok... 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 Oddio mio che palle Che è stato Avvenne a un livello sapere di me come cazzo faccio Dai c'è pure i corchi Tutti qua 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 Io vorrei Io vorrei Io vorrei avere solamente Io vorrei avere solamente Io vorrei avere solamente dei compagni di squadra che non vanno a suicidarsi da soli contro quattro e che non pushano senza reward Io confido Io confido in questo nasus in teoria che scali così tanto da one shotare corchi e vaffanculo Tutti qua Tutti qua Andiamo a fermare Andiamo a fermare Dain Ok Ok torno in base Che succede bot? Chi è che muore? Per il momento pare nessuno Ok Beh almeno nasus un 1v1 con Yasuo o Garen dovrebbe tenerlo Vedi quella Nami 0012? Niente Si va sempre acchiappata in 3 Oddio Non sono riuscito a zoniare O No, peccato Guattralo NONONO Eh no, oramai l'avevo committato tutto per cheaterla Ovia Oddio, quanto stiamo a perdere sto game Chiesco perchè pinga te quando hai il naso, sicuro che muore sempre Ma io l'ho mutato quindi non so che pinghi chi Cioè l'unica cosa che so è che Tutti quanti sono andati a morire 1v1 Cioè uno contro quattro Entranno in fight una alla volta E quindi tutti quanti si sono fiddati così Però a quanto pare la colpa è la mia che ho Solo quattro kill mentre Tra mid Top e support Stanno Stanno a far festa Questa è la loro anima Io spawn in tempo però Oddio mio Mi sa che non arriverò mai in tempo Vedete il dolore Ok No Ho trovato proprio a fire Eh ma in ogni caso Non Mi fai scercare e non penso sia me la La cosa migliore Anzi secondo me la cosa migliore è questa Io una notte ho scercato Io stavo guardando da sopra E mi è arrivato da Vito a rosso Ah sì è vero Diverso Cioè sto Nasus è veramente mostruoso Ma Sì Ma no, sono stessato l'entrata nella testa, cosa c'ha? Io vado pure da presalvarle e ci grepo, giustamente Ma no, sono stessato l'entrata Non devo perdere contro un Quarky Jungla perché il mio team l'icaria E' un abbastanza mostro E' un abbastanza mostro E' un abbastanza mostro E' un abbastanza mostro End of the line Un abbastanza mostro Oddio perché sti pick by spicy devono fare Davos E' un abbastanza mostro 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 va beh sinceramente non mi vado a startare qui ah peccato non mi piace la flash di vex e i grampions 4 allora ragazzi adesso vi mostro come si carriera un game con Karim eccola là, l'ha detto intanto possiamo vedere come il nostro jungler, il jungler dell'avversario si è appena fatto il rosso mentre io ho quasi finito di farmi il gromp questo perchè il povero jungler l'avversario non ha avuto un leash mentre io si in più quella ward là mi piace perchè ha già spottato delle persone però comunque continua ad avere 0 di punteggio visione, grazie lol perchè continua ad avere 0 di punteggio visione se ho spottato delle persone con quella ward? e io che cazzo ne sono scusi io ti vedo con 2 con un punteggio visione ah ok adesso è salito a 2 ok beh direi che so quello che fa oddio eh, ha solamente ucciso un beggar mid all'inizio si è postata con mid beh si, infatti mid è quello che deve fare peccato che quelli ignite ce l'ha accionato la kill vabbè questo è stato un po' scemo quello un po' scemo che si, infatti ho vinto il flash mid tanto non credo mi possa prendere dobbiamo aspettare per rifarlo io non ho vita hai visto che cosa dice kajanoglu? che dice? eh carmo ogni tanto dice kajanoglu a parte che c'ha la noglub lei dice kajanoglu prova ad arrivare botte non ho spottato eh però magari non ho fatto caso infatti dio mio c'era una cazzo di trappolo nooo nooo ho pure i lati abbiamo le trappoline vaffanculo un campo minato ammesso gemmo ma poi tutti con il cazzo di flash a poi non ne posso più perché dobbiamo focussare vex scusami senza support perché dice non c'è il flash grazie grazie ma come possiamo se tu pusci lo deviamo io non c'è una quindi e ovviamente non c'è mana però il mana per lei c'è là ne posso più non ne posso più he ovviamente had enough mana for his set che d'aiuto ma nel mezzo è sotto torre avversario and enemy has been slain e diventa uno in corea questo ok non penso che sia davvero diamante uno in corea però prendilo se no a mezzo è una mano a botte c'è lei diamante uno in corea ha fatto sta minchiata scusami? pensavo d'un uccidesse per con la ulti però c'è un dark arcus uccidete lo per amore del cielo ok uccidedelo per amore del cielo ok ora quante volte ora quante volte sto morendo come un imbecillo ecco ok 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 Non penso che muoglieni da lì Non penso che non c'è bene la mano Eh sì, lo so, lo so Ho preso un sacco di vantaggi Non posso trabrarla senza vantaggi All'Attack Speed Mi sa che non riesco a prenderlo in tempo No, invece non se lo stavano a fabbano così Vediamo un po' se li vuole committare Certo che vuole Ovviamente, ovviamente Oddio, le palle quanto si salvano senza vita Più è corso via col Ghost Avrà capito sette? Direi che sette non ho capito Ora ho capito Ma vai a fare in culo, Nidalee, orca mignotta Allora, io sto cominciando piano piano a scendere verso la bot Che se ormai Scende Scarner Attenti Allora, io sto cominciando 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 Sì, sì, lo so, lo so. Io tra 5 secondi la ulti. Eh, vabbè. Eh, speravo che col Fjr la uccideste. Lei ha l'oggetto completo, è 5-0, io sono 1-2, adesso 1-3. Eh, vabbè, me l'avevo pure filato, non so, non ho la vita. Penso che gli facessi abbastanza danno. Purtroppo no, non lo posso fare, ho bisogno di più tempo per recuperare qualche danno. Ma non ci arrivo neanche vicino. Che palla, 6-0-4. Poi non penso di passare attraverso il muro, sinceramente ho fatto questa cazzata. Credo di essermi fermato prima. Niente, allora, ma come cazzo fa, mi recupero? Giù inlet, inted, ah no, inted. oh Niente licella il blu su E nessuno muore Dio sta cazzo di torre perché mi sta targettando Ok Ovviamente si è dato No non può aver flashato Flashato primo Io mi metto a piangere Ciao Roberto Magari dovrei fare anche un back Visto che c'ho tutti sti soldi Faccio i Krag I Raptor E torno in base Ovviamente 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 Sto game sta venire veramente da piange. Come stai Roberto? Ok, quello shutdown su cosa non mi fa tanto impazzire. Arrivò per il Drake. Non sono riuscito a smetare ovviamente, vabbè ma sto sempre fermo, 3 secondi e 47 di cc. Ho capito, io mi sono outtato, quello vega. Non c'è la terra, non c'è la mia. Molto bene, pico. Anche se boh, la terza volta oggi che smite non porto lo smite. Ma dove ce l'hai sto smite? Sulla F. E perché non? Se sto a rubare la tastiera? No, penso semplicemente che lo faccio forse troppo tardi, però mi sembra di premerlo. Non c'è la mia. 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 Quel Vhagar devo dire un po' mi spaventa Il Vhagar fa veramente schifo Cioè nonostante fossi in e con il coso attivo l'oggetto che mi fa correre niente coso con il ghost è scappato Non ti potrebbero rilassate ma ogni volta che faccio un combat in fight qualcuno si salva senza vita E' l'herald non lo farlo scagliere Pazzatele no? Cioè ci devo morire io perché Scusa devo buttare l'herald E se entriamo in fight Io faccio questa poi stacco e poi parto per andare da te Cioè perché devo portare il cane più che altro Only look him Pazzo c'ho pure l'anima da prendere Perché? Dobbiamo prendere l'anima? Non ci apriamo mai in tempo Beh loro non stanno tutti al drake Sì ce la facciamo Cioè vai a carcola qualche porta Io l'ho smaitato eh di nuovo Io l'ho smaitato Niente sono permabloccato dalle cose Noh Vabbè Tammu Ogni volta dovevo fare una cazzo di smite battle non mi parto lo smite Non mi parto lo smite Non mi parto lo smite Non puoi sopravvivere porca la mignota E vabbè Facciamoci il viaggetto Non mi parto lo smite Ma è morto? Sì lo ripete lo ribadisce Ah è il mantra Dai davvero mi ha preso Ok non portarmi perché non c'ha l'electro Mi manco mi può correre in farcia Che succede top? Ok E top succede che sono morti Un enemy has been swinged Ox Uno Mi parto lo primero Prendi look a DC e fai 0 Sono riuscito a ammissare la ultima Guarda quanta velocità d'attacco che pioni i cristalli E' brava, bel flash, complimenti Vabbè Vabbè, quello almeno è morto Vabbè 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 L'ho premuto quattro volte prima di farlo partire Vabbè 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 Vabbè